Mi occupo di catering da una quindicina d'anni, anche se la passione ce l'ho da quando sono piccolo. La latteria è il negozio dove si può anche fermarsi a bere una spuma o a mangiare un panino col salame. È una semplicità che è quella che poi è alla base di tutto il concetto di cibo che stiamo elaborando per la latteria Mini. Mini ci ha scelto e ci ha coinvolto in questo progetto perché condivide la nostra freschezza e la nostra ricerca e la nostra curiosità. In questa situazione la latteria diventa un simbolo per una città proiettata verso il futuro ma legata comunque a delle tradizioni che non si vogliono perdere e che esprime una serie di concetti legati alla sostenibilità, alla qualità del cibo, alla tradizione, alla convivialità. Mi chiamo Corrado Calza e in questo progetto abbiamo trovato la sintesi tra cibo buono e sano, sostenibilità e design.